per la città. Più occupazione, meno tasse e una città green. E' il coordinatore dell'area metropolitana l'onorevole Francesco Paolo Sisto a tenere banco in conferenza stampa e a spiegare i principali passaggi dell'elenco portato avanti dalla coalizione a sostegno del candidato sindaco Pasquale Dirella. Spazio al capitolo tasse. Un comune meno primente fiscalmente e burocraticamente, dicono ancora, con una riduzione nei 5 anni di almeno il 20% sui mutari e addizionale IRPEF. La razionalizzazione degli enormi trasferimenti finanziari ad Amio e Dantab e con la dismissione di parte del patrimonio immobiliare comunale. Bari Green City, infine, per una città rispettosa dell'ambiente e della salute dei cittadini con l'incremento del verde urbano, la cui manutenzione sarà affidata anche ai cittadini con sconti sulle tasse comunali, l'incentivazione della produzione di energia rinnovabile dell'edilizia sostenibile, la riduzione nell'uso del gas metano, con maggiori investimenti nella mobilità elettrica e infine la bonifica del territorio comunale dall'amianto. Politica, ancora politica, Irma Melini lancia il patto con i popolari per l'Italia, con Mario Mauro, candidato al Parlamento europeo nella circoscrizione sud. Queste elezioni europee sono caratterizzate dallo scontro tra europeisti e cosiddetti sovranisti, quindi popolari e populisti. Popolari e populisti hanno idee diverse, ma spesso gli elettori sono gli stessi. Quando i popolari hanno coraggio, cioè si mettono in gioco per i valori in cui credono e mettono in gioco gli ideali per cui vale la pena vivere, vengono seguiti dagli elettori. Invece una classe dirigente che ha avuto paura di ciò in cui credeva ha consentito che i populisti e i sovranisti ricavassero uno spazio che è fatto non solo di promesse irrealizzabili, ma di promesse che creano le condizioni per un conflitto tra i popoli. Proprio per questo dobbiamo e dobbiamo far votare un'esperienza e una proposta popolare e liberale in Europa. Mario Mauro è un politico di lungo corso, lo conosco in tutte le sue esperienze, e sono orgogliosa di questo appoggio perché Bari deve avere una dimensione europea. Noi siamo convintamente europeisti, l'abbiamo sempre detto con coraggio e crediamo che per una grande Europa si debba passare da amministrazioni serie con politici competenti. Quindi sono felice di avere Mario Mauro a Bari e di continuare in un percorso che non finisce il 26 di maggio. Voltiamo pagina a una cellula del clan barese dei Dicoso. La specializzata nel traffico di marijuana e cocaina è stata scoperta e disarticolata oggi in un blitz dei carabinieri avvenuto tra Verona e Bari. Complessivamente sono state eseguite 19 misure cautelari. Dalle indagini è emerso che un affiliato al clan di Coso, l'operante in Riva dell'Adige, da circa 20 anni aveva avviato e dirigeva il traffico di marijuana e cocaina dalla Puglia, che giungeva in Veneto tramite pacchi contenenti ricambi per automobili inviati a ignari artigiani e meccanici oppure con corrieri che viaggiavano in pullman di linea con biglietto andata ritorno pagato dall'organizzazione. Ogni settimana si è stimato giungessero nel Veronese due chili di marijuana e 300 grammi di cocaina pura destinati allo spaccio sul territorio. L'operazione è partita nel 2016 dalla denuncia di un artigiano minacciato dagli appartenenti al clan. Oltre a reato di associazione mafiosa finalizzata al traffico di droga, quindi la procura antimafia contesta il sodalizio criminale e anche i reati di possesso d'armi, minacce e distorsione. Un operaio di 30 anni di nazionalità marocchina è già noto. Le forze dell'ordine è stato arrestato a Castellana Grotte con l'accusa di maltrattamenti in famiglie e lesioni personali. L'uomo già denunciato nel 2017, nella giornata di ieri, ha picchiato la moglie perché il pranzo non era di suo gradimento. Dopo aver colpito la donna con spintoni e schiaffi, strappandole il telefono di mano per impedirle di chiamare il 112, per punizione l'ha anche costretta sul balcone in balia della pioggia. A fare intervenire i carabinieri sono stati vicini, allertati dalle grida d'aiuto della donna. Partito questa mattina l'abbattimento del muro perimetrale della ex caserma Rossani in via De Bellis. Una giornata storica per la città di Bari, l'ha detto il sindaco Antonio De Caro. Scendevo dall'autobus dal 12 barrato per andare al Politecnico, quando studiavo qui vedevo soltanto un muro. Qualcuno più grande magari ha pure vissuto la caserma, perché nella caserma ha fatto il militare, o nella caserma ci andava a giocare a pallone o a basket, perché qui dentro si facevano le attività sportive. Per molti invece è stato soltanto un muro. Oggi questo muro lo buttiamo per terra, dall'altro lato del muro stiamo realizzando un grande parco, parliamo di 30.000 metri quadri. E sullo sfondo del parco le due palazzine più importanti, i prospicenti del parco, sono 5.000 metri quadri, stanno diventando la biblioteca regionale, una biblioteca di 5.000 metri quadri. Sarà aperta fino a tardasera, come accade in altre città, come accade a New York, come accade a Londra, sarà a disposizione di tutti. Visibilmente emozionato, il sindaco Antonio De Caro partecipa all'abbattimento del muro perimetrale della ex caserma Rossani in Via De Bellis. Un momento storico per la città di Bari, spiegano gli assessori intervenuti. Giuseppe Galasso e lavori pubblici, e Carla Tedesco per l'urbanistica. Frutto spiegano soprattutto della partecipazione dei cittadini al progetto sulla caserma. Segniamo un pezzo importante della storia della città. Fra qualche minuto andrà via questo muro, è il muro di Via De Bellis, è un muro lungo 280 metri ed è il muro che si sviluppa per l'intera lunghezza da via Giulio Petroni fino a via Benedetto Croce. È la vittoria della cittadinanza che chiedeva spazi pubblici a Bari, nel cuore della città, in un pezzo densamente abitato, e dopo tanti anni questo sogno collettivo si sta realizzando. Da oggi e fino a domenica 19 maggio a Bari torna primavera mediterranea. L'evento green del maggio barese è arrivato quest'anno alla sua ottava edizione, che trasformerà via Argiro in un grande giardino en plein air con centinaia di piante, fiori, profumi e colori. La manifestazione, il cui main sponsor è Amgas, vede impegnati vivaisti, architetti, artisti e studiosi, alle prese con una trasformazione e rilettura degli spazi pubblici urbani in chiave green. Anche quest'edizione vede l'impegno, la professionalità dell'architetto Nuccia Rossiello, anima di Promo Verde di Puglia, che anni fa ebbe la felice intuizione di trasformare il centro di Bari in un grande giardino all'aperto. Dopo la scrittura, i Cinque Sensi e la musica, quest'anno primavera mediterranea è dedicata alla pittura, il giardino, una tela su cui dipingere. E' infatti il tema scelto per l'edizione 2019. Sanità, Vito Montanaro sarà il nuovo direttore del Dipartimento regionale per la salute. La nomina è stata formalizzata dalla Giunta nella giornata di ieri per un posto lasciato vuoto dalle dimissioni di Giancarlo Ruscitti. Roberto Maggi. Direttore generale dell'AS dal 2015 all'estate del 2018, un lavoro interrotto bruscamente quando tutti si attendevano alla riconferma a seguito di un iniziale coinvolgimento nell'inchiesta sulla sanità lucana, vicenda per la quale era stato scarcerato lo scorso settembre. Vito Montanaro è il nuovo direttore del Dipartimento regionale per la promozione della salute. Dopo le dimissioni di Giancarlo Ruscitti, che aveva scelto un nuovo ruolo nel Nord Italia, sarà lui a gestire le questioni della sanità pugliese in un ruolo che, per quanto di carattere tecnico, ricade in una materia in cui la responsabilità politica è gestita direttamente dal governatore Emiliano. Per Montanaro, che dopo la nomina ricevuta dall'Aggiunta regionale attende di entrare di fatto nelle sue funzioni, ci saranno subito alcune grane da risolvere. La gestione della tavica carenza di personale acquita dalle possibili uscite per quota 100 e la riduzione delle liste d'attesa con una legge approvata in Consiglio regionale, ma finita sotto la scura del MEF. L'informazione termina qui. Vi ricordo che per notizie e aggiornamenti potete consultare il nostro sito internet www.telebari.it Grazie per averci seguito. A più tardi con l'informazione di Telebari Il meteo è offerto da cordiale saluto, ben trovati da Nikos di Trebimeteo. Insieme diamo uno sguardo alla previsione per la giornata di venerdì. Siamo alle porte del weekend, weekend guastato dal maltempo. Guardate questa zona di bassa pressione da ovest che già dalla serata porterà i primi fenomeni sull'angolo nord-occidentale e nel corso di sabato piogge che si estenderanno a molti settori del centro-nord. Andiamo a vedere la situazione quindi per quanto riguarda la nuvolosità. La giornata di venerdì nel complesso buona con ampie aperture del cielo, migliore anche al sud, ma nel corso del pomeriggio nubi in deciso aumento sulla parte tirrenica e sulle regioni settentrionali. Avanza questa perturbazione prossima grafica perché appunto ci conferma queste piogge entro la serata al nord-ovest sull'area alpina ma poi anche Sardegna occidentale mentre altrove la tendenza parziale break dall'instabilità quindi sulle rimanenti zone del centro-sud e sul nord-est con temperature in lieve ripresa. Però attenzione perché sul nord-est qui le piogge giungeranno nel weekend. I dettagli maggiori approfonditi come sempre sul nostro sito web. Il meteo è offerto da sgservicesud.it